Ciao cari amici delle crociere, con questo video voglio fare un confronto tra MSC e Costa. Prima di tutto vorrei dire che, indipendentemente dal fatto che si tratti di Costa o MSC, non c'è una compagnia che sia migliore dell'altra. Alla fine è una decisione individuale, in base a ciò che meglio si adatta a voi. Entrambe le compagnie di navigazione hanno radici italiane, anche se Costa Crociere, come ad esempio Aida, fa parte del gruppo Carnival. MSC ha la sua sede principale in Svizzera, ma anche qui le radici sono italiane. Oltre alle crociere, MSC è la più grande compagnia di spedizioni container al mondo, con oltre 800 navi. Navi. Dopo che Costa ha venduto alcune navi negli ultimi anni, ora rimangono nove navi in servizio per la compagnia. La Costa Fortuna è la nave più antica, datata 2003, mentre la Costa Toscana è la più nuova, del 2021. Le navi più vecchie sono molto colorate e arredate con un tocco italiano. Molte decorazioni sono elaborate, artistiche e luminose. Con la Costa Smeralda e la nave gemella Costa Toscana sono arrivate sul mercato due grandi navi moderne. Queste sono ancora colorate, ma arredate in modo più moderno. MSC avrà complessivamente 23 navi da crociera con la World America, che entrerà in servizio nel 2025. La più antica, la MSC Lirica del 2003, è anche la classe di navi più piccola insieme alla Sinfonia del 2005. Con la MSC World Europa, MSC ha introdotto nel 2022 una delle navi più grandi sul mercato europeo. Le navi sono moderne e brillanti, ma non così colorate come quelle di Costa. Indipendentemente dal fatto che si tratti di Costa o MSC, entrambe le flotte sono eleganti e progettate in stile italiano. Le diverse aree sono tutte diverse e interessanti da esplorare. I ponti esterni sono ben progettati e di notte le navi prendono vita. Le cabine. Costa offre cabine interne, cabine vista mare, cabine con balcone e suite. Le cabine con balcone offrono un balcone privato, mentre le suite offrono lusso e comodità extra come un pacchetto bevande premium e servizio di maggiordomo personale. Inoltre, come ospite di una suite, si ha la possibilità di cenare in un ristorante separato, anche se con orari di cena fissi. MSC offre categorie di cabine simili a quelle di Costa. Inoltre, ci sono i mondi di esperienza bella, fantastica e aurea, che offrono diversi servizi e cabine sui ponti superiori. Con l'opzione aurea non si è più legati a orari di cena fissi e si può cenare senza fretta in una zona separata nel ristorante principale. Un'altra opzione è il Yacht Club, che offre un'esperienza di crociera straordinaria e lussuosa. Il cibo Il cibo è sempre una questione di gusto. Personalmente trovo che il cibo nei ristoranti principali di Costa sia un po' migliore di quello di MSC. Le porzioni sono un po' più piccole, ma meglio presentate. Il cibo di entrambe le compagnie è di alta qualità, ma a volte può diventare un po' scomodo quando il tempo è stretto a causa degli orari fissi dei pasti. A seconda del mondo di esperienza prenotato, con MSC si ha la possibilità di andare al ristorante indipendentemente dagli orari dei pasti. Con Costa, anche come ospite di una suite, si ha un orario fisso per il proprio ristorante. Il buffet è simile per entrambe le compagnie, ma trovo che la qualità e la presentazione del cibo siano migliori con MSC. La scelta è più o meno identica. I buffet di MSC sono aperti più a lungo e offrono snack in varie zone a orari diversi. A seconda della destinazione e della stagione, i ristoranti a buffet di entrambe le compagnie possono diventare molto rumorosi e affollati. Per quanto riguarda i ristoranti di specialità, MSC è in vantaggio con il Butcher's Cut o l'Ocean Cay, anche se Costa offre un ottimo ristorante a pagamento con l'archipelago. Bevande. I prezzi delle bevande sulla carta del bar sono particolarmente importanti con Costa. Infatti, con la compagnia italiana, non ci sono quasi mai bevande gratuite durante i pasti. Anche le bevande analcoliche non sono solitamente incluse nella pensione completa sulle navi Costa. Pertanto, i prezzi delle bevande sono un fattore significativo nei costi aggiuntivi di una crociera con Costa. Con MSC, le seguenti bevande sono incluse nel prezzo della crociera senza pacchetto bevande. Distributori d'acqua nel ristorante a buffet durante gli orari ufficiali del buffet. Distributori di caffè con caffè americano. Acqua calda per il tè e succhi di frutta dai distributori durante la colazione. Entrambe le compagnie offrono vari pacchetti bevande. Ci sono molte opzioni, a seconda di quanto e cosa si vuole bere. Inoltre, è importante notare che le bevande non sono valide in tutti i ristoranti di specialità e potrebbero esserci costi aggiuntivi. Entrambe le compagnie servono bevande di marca, evitando prodotti economici. Intrattenimento Costa e MSC offrono molti spettacoli e eventi diversi. Spesso in inglese o senza parole. Gli spettacoli serali sono ripetuti più volte per consentire a tutti gli ospiti, a seconda degli orari dei pasti, di assistervi. Anche durante il giorno ci sono molte attività diverse, sportive o più tranquille. Nei bar di entrambe le compagnie c'è quasi sempre musica dal vivo e c'è sempre qualcosa da fare. Se si vuole, però, si può anche trovare un angolo tranquillo per rilassarsi. Lingue a bordo Con entrambe le compagnie di navigazione si va molto lontano con la lingua italiana ed essa è sufficiente, almeno per le partenze in Europa. Con Costa il focus è sulla lingua italiana. Inoltre, gli annunci importanti vengono fatti anche in altre lingue. Con MSC non c'è una lingua principale in questo senso, al massimo l'inglese. Qui gli annunci sono sempre fatti in tutte le lingue. Con il tedesco si può andare avanti, ma con entrambe le compagnie è utile parlare un po' di inglese. Fumo Con Costa è permesso fumare sul balcone, il che può influenzare l'esperienza dei non fumatori nelle cabine adiacenti. Ci sono molte aree per fumatori, anche all'interno. MSC è più restrittiva e permette di fumare solo in poche aree designate. Servizio clienti Il servizio clienti di Costa è molto buono, sia a terra che a bordo. Con MSC il servizio clienti a terra è meno buono, ma eccellente a bordo. Conclusione Entrambe le compagnie di crociere offrono esperienze di alta qualità con diversi punti di forza. Costa mette l'accento su un'atmosfera rilassata e mediterranea, mentre MSC offre un'esperienza di crociera moderna e flessibile. Costa offre un'esperienza vivace e italiana con ottimo cibo e intrattenimento. Ma meno servizi inclusi. MSC offre un'esperienza scintillante e europea, con molte attività e buoni ristoranti di specialità. Quale delle due vince il grande confronto? Vale la pena provare entrambe. Avete esperienze con MSC o Costa? Scrivetele nei commenti. Qualunque compagnia scegliate, vi auguro buon divertimento. A presto, il vostro Cristian. A presto, il vostro Cristian.